castello fiabesco oh e questo cos'è? su dai apriti ehi barbie che cos'hai lì? e ciao Stephenie ho trovato questa bottiglia ma non la riesco ad aprire fa provare a me ma c'è qualcosa dentro che cos'è Stephenie che cos'è? guarda barbie è una mappa del tesoro wow dice che il tesoro si trova in fondo al mare andiamo subito a provarlo mi serve una maschera e mi posso tuffare la ricerca del tesoro fai attenzione barbie then come? che cos'è? allora barbie hai trovato il tesoro miungo a testa di passare un tuadore il tesoro! No, non ce l'ho fatta, mi mancava l'aria! Non ti preoccupare Barbie, ho un'idea! Possiamo fare un elisir per trasformarti in sirena! Ottima idea! Tutto bene, tutto bene! Mettiamo un po' di succo d'arancia. Barbie, aggiungi una banana! Va bene! Della polvere magica. Aggiungiamo anche una pera. Stavo quasi per dimenticarmi dell'ingrediente segreto. Che ingrediente è? Ma Barbie, è un segreto! Ci manca ancora qualcosa. Delle alghe marine. E devo tuffarmi di nuovo per andarle a prendere! Barbie, girati, girati! Come? E perché? Eccole qua! Ah! Barbie, prova! Barbie, guarda di nuovo la mappa e prova a ricordarti dove devi andare. Devi passare prima vicino alla grande conchiglia, poi vicino alla nave affondata e infine troverai il tesoro. Va bene, me lo ricordo! Possono! Ho! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, sì, Barbie, arrivo. Grazie. Wow, vediamo che c'è dentro. Sì, che bella idea. Proviamo. Wow, quante cose preziose. Bellissimi, guarda. Guarda come brillano. Mi sta proprio bene questo diadema. Guarda, Barbie, ce n'è uno anche per me. E tu, l'hai mai trovato un tesoro? Ciao. Ciao. Guarda, come brillano che belli. Wow, sono proprio, Barbie. Sono tutti le tigone.